Alessandro ci sono novità per quanto riguarda Casa Abruzzo che presentate oggi in regione, di cosa si tratta? Ha un grande progetto delle colline teatine che rappresenta un'area geografica della nostra regione molto importante e il ponte tra il mare e la montagna ha una stessa caratteristica che è quella della presenza dei nostri vitigni, del maggior numero delle cantine sociali, del maggior numero delle cantine private, insomma numeri straordinarie che se raccontati a Milano e non solo a Milano, credo possano diventare attrattore turistico fondamentale. Siamo arrivati praticamente a metà dell'Expo di Milano, quali sono i risultati raggiunti fino ad oggi proprio con Casa Abruzzo? Il bilancio è assolutamente positivo, credo che questo più che dirlo io lo dicono gli operatori. Questa è la stagione in Abruzzo dove si registra la migliore performance in termini di presenze turistiche, la migliore dell'Emilia, migliore della Puglia, migliore della Sicilia, non sono io a dirlo ma sono studi nazionali recentissimamente pubblicati di cui la stampa nazionale ne ha dato conto. Un pezzo di questo risultato deriva anche dalla capacità di promuovere la nostra regione a Milano ma è solo l'inizio, questo metodo continuerà avanti, io ringrazio i sindaci, gli amministratori locali che hanno saputo fare squadra e mettersi insieme.